Io rappresento uno dei 25 paesi in cui opera Ticherni, quindi proverò a darvi una lettura incrociata di quello che è successo da noi con quello che ho visto essere successo e succedere negli altri paesi. Il primo dato sul mercato, il 2009 è stato un anno orribilis per tutti i nostri paesi e ha dato, secondo me, un'ulteriore dimostrazione, se fosse ancora necessario, che la spesa di consulenza è una spesa assolutamente discrezionabile e comprimibile fino allo zero in tempi rapidissimi da parte dei nostri clienti. Questo l'abbiamo visto succedere in quasi tutti i paesi in cui noi operiamo. Il secondo dato, che viceversa è un po' più specifico per noi, è che la velocità di uscita dalla crisi per noi è stata molto più lenta, mentre negli altri paesi in cui noi lavoriamo il 2010 è stato obiettivamente un anno di forte ripresa. L'Italia è stato un anno sostanzialmente stabile. I dati che abbiamo visto precedentemente della ricerca lo confermano con fatturati sostanzialmente in linea al 2009, che è stato appunto un annus orribilis. Questo aggiunge ovviamente un elemento di incertezza che ci è un pochino caratteristico. Ora, questi due elementi uniti rendono obiettivamente difficile per una società di consulenza di piccole, medie o grandi dimensioni pianificare e investire, che è ovviamente un problema a fronte del fatto che in realtà, anche alla luce di tutto quello che si è detto oggi, investire è assolutamente essenziale per continuare a crescere e aumentare il valore che noi portiamo ai clienti. Quindi ci vuole non solo coraggio, ma anche spalle larghe. E se vediamo un pochino com'è composto il mondo delle società di consulenza in Italia, le spalle larghe non sono sicuramente una caratteristica del settore in cui operiamo. Ancora moltissime aziende di piccole o piccolissime dimensioni, in cui fare certi tipi di investimento, se non sia fieno in cascina, come diceva il collega, può essere obiettivamente molto complicato. Quindi rinnovarsi diventa obiettivamente difficile. Se guardo un attimo alla domanda, mi sento di condividere il 90% di quello che è stato detto. La domanda è diventata più sofisticata, è determinata, è diventata più aggressiva, chiede sempre più progetti discreti, non firma cambiali in bianco, misura il valore portato dal consulente e più spesso che no effettua una selezione competitiva del consulente stesso. Ora, ci ho detto, secondo me le regole poi di scelta del consulente rimangono sempre le stesse. La qualità della relazione che hai instaurato con le persone che ti scelgono, il pricing, anche se devo dirvi onestamente, io raramente ho vinto o perso progetti con la sola leva del prezzo, e i contenuti. Qui il punto che vorrei fare, si è fatto distinzione tra competenze, esperienza, e in realtà quello che secondo me noi vendiamo ai clienti è esattamente il combinato disposto di esperienze e competenze, quindi competenze innovative già applicate in contesti in cui il cliente può in qualche modo riconoscerci. Quindi è la combinazione di expertise e experience che differenzia un consulente dall'altro. L'altra cosa su cui vorrei fare una puntualizzazione è su questo tema dell'innovazione. L'innovazione è un lemma molto generico. Noi produciamo innovazione attraverso le idee che le nostre persone generano sui progetti quotidianamente. Il cliente apprezza tantissimo l'innovazione, ma proprio tantissimo, e per il cliente l'innovazione è la soluzione ad un problema che lui non riesce a risolvere, il modo diverso di leggere un dato che lui non aveva interpretato in un certo modo, la capacità di portare a compimento un'attività che si era bloccata per un problema organizzativo. Quindi è assolutamente fondamentale per il consulente avere la capacità di portare un punto di vista diverso, nuovo, innovativo, all'interno del contesto aziendale in cui opera. Ovviamente, essendo poi anche in grado, e questa è la parte, se volete, a volte più difficile, di renderlo accettabile al cliente stesso. Volevo fare poi qualche punto sull'offerta. 16.000 aziende di consulenza, segmentate prevalentemente per dimensione, La nostra capacità come industry di accompagnare i clienti in un processo di sviluppo e innovazione è stata a volte messa in discursione. Secondo me bisogna ragionare in maniera un pochino più articolata sul modo in cui noi ci poniamo sul mercato e sui valori distintivi di cui noi siamo portatori. Io ne identifico sostanzialmente quattro. Uno è la qualità del network di cui noi siamo portatori, sia individualmente come relazione, sia istituzionalmente come azienda, in termini di copertura geografica e istituzionale che tu sei in grado di assicurare. Qui, ovviamente, il network individuale è un patrimonio che ognuno coltiva individualmente. La copertura geografica in alcune circostanze è un differenziante, in alcune circostanze meno perché tramite alleanze e partnership in qualche modo si arriva o si dice che si arriva in quasi tutto il globo. Il secondo elemento è la qualità del servizio erogato, dove il cliente misura effettivamente il consulente in atto. E qui è, ovviamente, come sapete meglio di me, un mix di componenti hard e di componenti soft. Quindi non c'è solamente la qualità dell'analisi, la qualità del benchmark, la tipologia di competenze portate, ma c'è anche il modo in cui il consulente si pone in azienda, la capacità di interagire con l'organizzazione e di rendere accettabili le proprie considerazioni. E anche qui ogni azienda ha una sua cultura dove, obiettivamente, la differenziazione può essere molto rilevante. Gli altri due elementi sono il marchio, e io credo che su questo si investa non a sufficienza nel nostro settore, perché il marchio poi è espressione di elementi distintivi che il cliente percepisce e come, perlomeno in fase iniziale. E ultimo, ma non ultimo, la proprietà intellettuale. Senza investimenti in proprietà intellettuale il consulente non va da nessuna parte. E qui ritorno al punto iniziale in cui, in una situazione di mercato molto complessa come quella che abbiamo descritto e una struttura dell'offerta come quella in cui ci troviamo a operare, l'investimento in proprietà intellettuale è obiettivamente complicato. Ma è l'investimento in proprietà intellettuale che aumenta la produttività del consulente. Ho sentito nella ricerca presentata parlare di produttività espressa in termini di fatturato per dipendente. Nel nostro settore la produttività difficilmente aumenta investendo in capitale. È difficile per noi sostituire persone con macchinari. E' chiaro che possiamo mettere degli abilitatori, dotarci tutti di palmare, avere accesso a internet e mobilità. Ma non è questo che sposta la dimensione economica del problema. Noi aumentiamo la produttività se le persone che mettiamo di fronte al cliente sono portatori di competenze distintive applicate. Quindi sono in qualche modo riconosciute dal cliente come reali portatori di valore aggiunto. E questo si traduce nella nostra capacità di aumentare il prezzo. E questo porta sulla produttività. Ora è chiaro che per far ciò uno dove deve investire, deve investire nelle risorse. Quindi deve avere risorse di qualità che riesce a pagare sufficientemente e che riescono a dedicare sufficiente tempo a mettere insieme le idee per il cliente. Quindi questi secondo me sono gli assi su cui lavorare per rafforzare l'offerta del consulente e poi in ultimo del sistema per ridurre i fenomeni di, per citare un'affermazione precedente, di mala consulenza. Ora è chiaro che, e qui faccio la mia ultima considerazione, questo comporta anche delle riflessioni di sistema. Confrontandomi con le unit di Kerne in altri paesi, noi abbiamo un costo del lavoro che in Europa è il terzo più alto. Quindi mi sembra che siamo solo dietro la Svezia e il Belgio. E uno dice, vabbè, hai scelto di vivere in Italia, problema tuo. Questo è quello che perlomeno mi dicono i miei colleghi esteri. Il secondo elemento è che noi abbiamo dei costi di uscita e quindi in qualche modo di revisione del numero di dipendenti che lavorano con noi, che è anche questo uno dei più alti in Europa. Quindi se noi facciamo la classica matricetta che ci piace tanto fare sul costo del lavoro e costi di uscita, l'Italia è in alto a destra, in splendida solitudine. Ora, capite bene che se uno si confronta con un mercato in cui la domanda è incerta e comprimibile a piacere, ma dobbiamo investire in risorse di elevata qualità per portare idee e innovazione. Queste risorse ci costano molto, non solo perché le dobbiamo giustamente pagare, ma perché ci sono degli oneri accessori che non sono in qualche modo confrontabili. E per di più, a fronte di domande incerte, se dobbiamo ridurre il personale, e ci costa l'ira di Dio, è chiaro che ce la siamo detta tutta. Quindi obiettivamente, se non si lavora anche su queste variabili di sistema, diventa complicato. D'altra parte, secondo me, tutelare un giovane di 32 anni, con master, 110 elode, inglese e francese, così come si tutela un operaio di 50 anni, è assolutamente illogico. E quindi spero che chi di dovere ne prenda atto, anche se oramai le mie speranze in tal senso sono ridotte all'omicino. E con questo concludo. Grazie. 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 Grazie.